Sono nei giardini di via Lussemburgo in zona questura perché ci è stato segnalato che da qualche giorno in una panchina del parco dorme una signora senza tetto. Adesso il punto è, le istituzioni dove sono si aiutano tanto i richiedenti asilo ma si lasciano in condizioni molto disagiate le persone che ne hanno veramente bisogno. Al parco di via Lussemburgo nella zona ovest di Vicenza ci sono spesso senza tetto che scelgono le panchine come letto. La situazione però non si ripete solo di sera ma anche di giorno come ci segnalano. Una donna infatti dorme su una panchina durante le ore diurne quando il parco è frequentato da bambini e anziani. Le varie associazioni presenti sul territorio, sempre pronte ad aiutare il prossimo, dove sono? Si cerchi in ogni modo di offrire un aiuto concreto ai richiedenti asilo ma le persone che vivono in città da anni e che ora si trovano in condizioni disagiate, chi ci pensa? Persone che fanno di un parco la loro casa e di una panchina il loro letto sembrano dimenticate da tutti, soprattutto da chi può fornire loro un aiuto concreto.